Rientriamo, rientriamo. Oggi ha detto sulla stampa, ha offerto una mediazione ma adesso preparo gli effetti speciali. Se ci arrivano gli effetti speciali me li fate vedere, nel frattempo sentiamo Richetti. Io intanto presento formale protesta perché siamo passati dal pendo, da Papa Francesco, da una riflessione culturale alla quale voglio dare un modesto contributo a me Calderoli mi tocca. Vabbè insomma, no credo che ieri si sia semplicemente verificato che Calderoli da persona, no non posso dire intelligente, esperta qual è di dinamiche parlamentari ha provato ritirando tutti gli emendamenti a far rimanere la discussione in commissione e quindi dicendo io non vi ingolfo i lavori, si sta in commissione dove il PD oggettivamente è in difficoltà numerica perché i membri PD della prima commissione sono prevalentemente, o comunque in numero significativo afferenti alla cosiddetta minoranza PD, nulla a che vedere lo scambio con le parole che si commentano da sé di Calderoli, Susi e Sirchianci, insomma. Vittorio Feltri.